Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo per lavori in riduzione di carreggiata fino a venerdì 8 giugno nella fascia oraria 8-17, esclusi i giorni festivi e prefestivi, nel tratto compreso tra le uscite Campania e Sicignano degli Alburni in direzione Reggio Calabria. Sulla strada Statale Settiappia fino al 5 giugno nella fascia oraria 7-19, esclusi i giorni festivi, per lavori attivo il senso unico alternato nel tratto compreso tra Santa Maria Vico e lo svincolo Benevento della 16 Napoli Canosa in tratti saltuari. Sulla 3 Napoli-Salerno dagli ore 22 di oggi alle 6 di domani per un cantiere interdetto al traffico il tratto compreso tra le uscite Salerno e Cava dei Tirreni verso Napoli. Sulla tangenziale di Salerno fino agli ore 6 di sabato 23 giugno per lavori chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione nord. Per questa ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo anche che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità ed il trasporto pubblico locale in Campania. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Grazie a tutti.